Abbiamo oggi qui l'onore di avere a Motta Santa Lucia in questo primo campionato nazionale Treventino Valle del Savuto, una campionessa, la Mussari, che è qui vicino a noi e a quale chiedo quindi un saluto e il perché della scelta per una donna della box. Buonasera, sono Martina. La scelta della box è stata una scelta un pochino troppo di fretta perché comunque ero piccola, avevo dieci anni, quindi è stata un amore a prima vista, tra virgolette. Da lì poi non ho smesso più, è stata una passione che comunque, nonostante da dieci anni, continua ininterrottamente. Anche alcuni problemi fisici ce li impediscono, però ce la mettiamo tutta. Per continuare. Però continua avendo anche delle soddisfazioni, sappiamo che è stata medaglia d'oro, d'argento, quindi ci dice i risultati che ha raggiunto. Allora, l'anno scorso al torneo Elite II ho fatto medaglia d'oro, a giugno agli universitari ho fatto medaglia d'argento e ai campionati assoluti, infatti invece ho fatto medaglia di bronzo, terzo posto. Quindi un'ottima soddisfazione anche da un punto di vista professionale. Complimenti per la sua carriera. Una domanda curiosa che mi hanno chiesto di chiedere alcuni ragazzi. Ma i ragazzi hanno paura di Mussari o no? No, i ragazzi rispettano Mussari, quindi non fanno battute. Quindi diciamo che mi sono fatto un po' di strada anche per questo, perché le persone hanno incominciato a rispettarmi per il nome del pugilato e hanno evitato di crearmi danni. Naturalmente la mia è una battuta, complimenti per la sua carriera e la vedremo tra poco combattere sul ring. No, mi rispettiamo questa sera, non salirò sul ring, sarà per una prossima volta. Va bene, grazie, grazie di nuovo, grazie.